Onestà, trasparenza, sostenibilità, informazione, partecipazione. Su queste idee sta crescendo il Movimento 5 Stelle e su di esse vogliamo costruire il nostro futuro. Un futuro in cui l'acqua è una risorsa pubblica e universale. In cui l'energia proviene dal sole, dal vento e dalla terra. In cui salute e ambiente sono un bene da tutelare. Un futuro in cui internet è una rete gratuita ed accessibile a tutti. In cui l'informazione è libera e ci permette di scegliere consapevolmente. Perché quel futuro sia adesso. È arrivato il momento di agire. Movimento 5 Stelle. Cittadini in movimento. Sono Riccardo Cazzola, candidato consigliere al Comune di Milano per le prossime elezioni del 2011. La lista civica 5 Stelle di Milano è composta da 60 candidati. Gente comune, che non ha avuto precedenti penali, che ha lavori comuni. Perciò onesti cittadini. E non iscritti a nessun partito. Perciò non politici di professione. Cittadini che iniziano dal basso per avere una nuova democrazia partecipativa. E che vogliono dare voce alla città e far tornare la politica ai cittadini. Non siamo un partito, non siamo una casta. Siamo cittadini, tutto e basta. Ognuno vale un paro, 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 ognuno vale un paro. Ognuno vale un paro, ognuno vale un paro.